Quest'anno il premio Città di Terni sarà consegnato ad una straordinaria giornalista, una scrittrice impegnata per cercare di costruire un mondo migliore, è Giuliana Sgrena. Premiata con il premio Città di Terni, quindicesima edizione. Per me, io devo dire, da umile giornalista di provincia, Folco, mi ha regalato anche a me un'emozione veramente incredibile perché Giuliana Sgrena, neanche bisognerebbe ricordare la sua avventura, però lo facciamo comunque. Giuliana Sgrena, credo che per noi che facciamo questo mestiere di giornalista è veramente un mito. Lei, ricorderete tutti, ha messo a repentaglio la sua vita per la passione, per l'amore, per il suo lavoro. Giornalista del Manifesto, se non sbaglio il 4 febbraio del 2005, finì nelle mani dei sedicenti mujahideen, fu rapita insomma dall'organizzazione della jihad islamica e rimase nelle mani dei suoi rapitori per circa un mese. Fu liberata il 4 marzo del 2005, allora che i servizi segreti italiani riuscirono in questa impresa. e lo dobbiamo anche ad una persona che non c'è più, Nicola Calipari. Giuliana Sgrena, Nicola Calipari. Percorrevano, ormai convinti della salvezza, la strada che li portava nella città di Baghdad verso l'aeroporto di Baghdad dove li aspettava un aereo per ritornare in Italia. Lungo quella strada però, guarda caso, il fuoco cosiddetto amico colpì quella macchina dove c'era Giuliana Sgrena, Nicola Calipari, un'altra persona. Nicola Calipari perse la vita e Giuliana Sgrena rimase ferita. I colpi erano quelli americani ai noi. Non a caso Giuliana Sgrena ha pubblicato poi un suo libro proprio intitolato Fuoco amico. Parlando un attimo dietro le quinte con Giuliana diceva che è ancora forte veramente l'emozione ripercorrendo quell'avventura, ripercorrendo quei momenti ma che ha saputo in qualche maniera vincerla tornando addirittura a Baghdad per due volte. Giuliana. Sì, quest'anno sono tornata a Baghdad dopo più di quattro anni dalla mia avventura, da quella triste vicenda. L'ho fatto perché faceva parte della mia vita. Io dovevo ritornare in quel posto perché non potevo lasciare quel filo interrotto e dovevo anche riacquistare la sicurezza che solo ricominciare a fare il lavoro come l'ho sempre fatto proprio nel posto dove era stato interrotto. Perché io penso che, l'ho sempre detto, l'unico modo per fare il nostro mestiere è quello di andare sul terreno, parlare con le persone e verificare se quello che noi pensiamo, quello che noi crediamo, quello che ci raccontano corrisponde alla verità. E questo è un impegno che ho sempre mantenuto e voglio mantenere e voglio mantenerlo anche tornando in Iraq. Ci vuole una grande forza, una grande forza interiore per fare quello che ha fatto Giuliana Asgrena, ma ripercorrendo ancora quei momenti, quel mese di prigionia e poi la tragedia all'interno di quella macchina, ci sono ancora dei mostri, degli incubi? Beh, naturalmente è un'esperienza che ha cambiato la mia vita, soprattutto mentre a livello professionale ho continuato fin da subito a fare il mio lavoro, a livello personale è veramente cambiato e questa sera, sentendo anche le parole di Terzani, ripensavo a com'è diverso il suo rapporto con la morte e quello che è stato il mio rapporto con la morte. Il suo era un rapporto quasi preparato, molto tranquillo, mentre io quando pensavo alla morte, quando ero chiusa in quella stanza e pensavo che da un momento all'altro potesse essere il momento in cui venivano ad uccidermi, per me è stato molto traumatico, un trauma che probabilmente non supererò mai. È stato proprio questo mio rapporto con la morte che mi ha cambiato la vita. Adesso io non ho più l'entusiasmo per la vita, io vivo giorno per giorno e come se ogni momento in più che vivo è un momento che mi sono conquistato, un momento di vita che mi sono conquistato, alla morte che è sempre in agguato, quindi il mio rapporto con la morte è molto diverso. Questa sera ho molto riflettuto durante questo spettacolo che per me è stato veramente suggestivo, una perfetta contaminazione tra varie culture, però appunto questa cosa del viaggio, della morte è stata la cosa che mi ha colpita perché è una cosa che io ho dentro e da cui non mi posso staccare neanche un secondo. Bene, insomma, prima di consegnare questo premio, due parole anche ai due assessori. Io credo che sia stata una serata veramente particolare, la presenza di Giuliana Sgrena, questo spettacolo, questo percorso di vita, di morte, ognuno può vederlo e viverlo come crede, però credo che davvero sia stata una serata molto particolare. Ah sì, assolutamente, complimenti per lo spettacolo e anche un'emozione rivedere Giuliana Sgrena, io che ho conosciuto in primavera ad Assisi, io direi che oltre che una grande giornalista, lei poi dopo questa avventura è diventata una messaggera di pace, che si lega un po' anche ai caratteri della nostra regione, che coltiva la pace attraverso iniziativa, manifestazioni che come sapete si svolgono in Umbria, la marcia della pace, l'onore dei popoli e altri incontri, gli incontri interreligiosi che ci sono adesso, quindi questo bel riconoscimento a Giuliana Sgrena qui in Umbria, credo che sia, come dire, un filo comunque che ci lega alla nostra regione. E grazie per essere qui, grazie a voi perché fosse stato un bello spettacolo molto emozionale. Grazie, Assessore Rometti, vengo vicino all'Assessore alla Cultura del Comune di Terni, Simone Guerra, premio Città di Terni, credo che diventi ogni anno più bello e più pregnante, no? Sicuramente, questa se non ricordo male è la quindicessima edizione, offrendo tra l'altro uno spettacolo che ha messo insieme diverse arti, e dei temi e contenuti molto importanti. Anch'io ho avuto la fortuna di conoscere Giuliana in primavera, che al di là della vicenda drammatica, lei è da sempre una delle voci fondamentali del pacifismo in Italia, è stato quindi un onore incontrarla loro e ancora di più oggi premiarla. Pochi giorni fa abbiamo dedicato l'accensione della stella di Miranda alla Tavola della Pace, questo è indicare che questa città è in prima linea su questi temi, per quello che può fare un ente locale. Noi continueremo su questa strada, ringrazio quindi anche il premio Città di Terni per aver voluto premiare una testimonianza così importante di vita e professionale, una donna coraggiosa che in questi anni ha sempre mantenuto alta l'attenzione e una voce critica su questi temi. Quindi ringrazio a voi anche per la splendida serata di oggi. Ringraziamo ovviamente il regista Folco Napolini, ringraziamo la Domino ADV che si è occupata del coordinamento generale e ora il solenne momento della consegna del premio Città di Terni a Giuliana Sgrena. Certo, posso dire che per me è un onore ricevere questo premio, è vero io sono molto legata all'Umbria proprio perché l'Umbria è la regione che in Italia più ha manifestato, più manifesta testimonianze per la pace e Terni anche fa parte di questi percorsi di pace che io ho fatto anche in passato e quindi oggi sono particolarmente felice di essere qui e tanto più di avere persino un riconoscimento. Grazie molte. Grazie davvero a Giuliana Sgrena, grazie a tutti voi, grazie davvero. E noi sulla musica degli U2, Folco, chiudiamo questa serata. Dove le strade non hanno nome, questo è il titolo della canzone, scriveremo la nostra storia perché i nostri figli possano dimenticare. Grazie, grazie a Folco. Voglio soltanto dire che all'uscita riceverete, verrà consegnato il mensile liberamente, edito dalla Domino ADV, un piccolo dono per tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Grazie ancora a Folco Napolini, alla Domino ADV che si è occupato, dicevamo, del coordinamento generale di questa serata. Grazie davvero a tutti voi, il nostro personale applauso, a voi che siete stati in nostra compagnia e a tutti gli artisti che hanno dato vita a questa splendida serata. Un bacio da Livia Torre e al prossimo Premio Cittadini. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.